Cari fratelli e sorelle, pace bene e Natale. Per San Francesco, a dire del Celano, Natale è la festa delle feste, la festa per eccellenza, perché è il giorno del gran regalo di Dio all'umanità, il regalo del suo Figlio. A tutti voi sparsi nel mondo intero, fratelli e sorelle, vi auguro un santo e gioioso Natale. Vi auguro che Cristo possa nascere nel cuore di ognuno di voi e nelle vostre fraternità. Vi auguro che la luce del Natale possa guidare i vostri passi lungo tutta la vita e in particolare lungo l'anno del Signore 2012. Buon Natale, buon anno. Pace bene.